Me ne stavo solo a casa, sbraiato sul divano, a leggere il giornale, fuori un sole che bruciava non c'era anima più per tutta la città. La famiglia era al mare, se ne stava a villeggiare, mi ero un poco appavagnato e lo squillo mi svegliò. Apro la porta e quasi un infarto al cuore mi stava per venire, più nuda che vestita, quant'era buona quella donna lì. Mi disse che lo scusa, un gran favore, lei mi dovrebbe ervar, il mio ce l'ho rotto, vorrei telefonare. Ma la prego interpone, si accomodi signora, e la signora entrò, e con grande simvoltura sedendo si incontrò, che gambe sfoderò. Una cosa da impazzire, io non ragionavo più, poi un dilemma alquanto duro, me la faccio pure il no. Una doccia d'acqua fredda, così il più caldo io non soffrirò, ma un rimedio più sicuro, quella creatura mi consigliò. Facciamo insieme l'amore, così il favore io le ricambierò. Mi aspetti nel salotto, io la raggiungerò. Che invecile sono state, più di un'ora l'aspettate, la signora si è squagliata, il portafoglio si è fregata. Nella doccia sono entrata, l'acquedotta scioperata. Che giornate che siano, non mi fanno fisso più. Se una donna bussa alla mia porta, io non ne eravo più.